E' stata una sagra del pesce da incorniciare, quella organizzata quest'anno a Termoli dall'OP San Basso che in due giorni ha fatto registrare il tutto esaurito. Prima con la cena dei pescatori, venerdì, con il porto trasformato in un grande ristorante all'aperto. Mille biglietti venduti al costo di 20 euro, cinque cuochi hanno preparato i piatti tipici della cucina marinara che sono stati serviti ai tavoli, proprio come al ristorante. E poi ieri la serata a clou con la vera sagra e il suo tradizionale piatto di frittura di paranza. Le prime porzioni sono state offerte in beneficenza alla Caritas e alle famiglie più bisognose. Due battute di pesca straordinarie concesse in deroga al fermo biologico, oltre 10 quintali di pesce pulito e cucinato quest'anno dai pescatori che sotto gli stand, come in una grande famiglia, hanno dato anima e corpo per la riuscita dell'evento. Mamme, papà, persino i più piccoli, si sono dati da fare. Da che ora stai preparando qui? A pomeriggio, alle quattro. E' faticoso? Abbastanza. Però c'è un buon profumo? E' buono, sì. Pesce fresco. Di cosa si occupa lei qui? Delle figgitrici. E' caldo stare qui, molto caldo? No, no. Stasera è abbastanza ventilato? Eh, ma noi il lavoro non ci fa niente. Non vi spaventa? Di imbanatura. In cosa consiste? Di mettere la farina al pesce, sale e poi portarlo alla figgitrice. Da che ora sta qui? Eh, sei e mezza. Stanca? No, stiamo ballando. Merluzzi, sanghette, cicale, seppie. Calamari. La buona organizzazione quest'anno ha evitato lunghe fili alle casse, soddisfatto il presidente dell'UMP San Basso, Basso Cannarsa. Il bilancio non lo dobbiamo fare noi, lo dovete fare voi. Noi ci siamo veniati al massimo, ieri sera abbiamo avuto qualche lamentela, ma stanotte abbiamo fatto un po' i conti, abbiamo fatto circa mille pasti, abbiamo avuto una ventina di lamentele, abbiamo rimborsato 20 biglietti. Stasera non vedo file. Qualcuno mi ha detto, ma non c'è nessuno. A quest'ora abbiamo superato le 4.000 vaschette, siamo quasi 80 persone, tutti pescatori con le loro famiglie, nipoti e parenti, quasi 500 casse di pesce, pulito, 500 pulito. C'è stata un'affluenza pazzesca dalle sette, tutta gente squisita, nessuno si è lamentato. Vengo da Romania, però sono residente qua da otto anni. Quindi partecipo a questa sagra già da tempo? Sì, da ogni anno di quando sto qua, da otto anni. Le piace una bella manifestazione? Sì, molto molto interessante. Da dove viene? Da Foggia. Viene sempre qui ogni anno? Sì, sono ormai più di vent'anni. È una manifestazione che quindi piace a lei, alla famiglia? Sì, certo, è un motivo per stare insieme, stare all'aria fresca, vedere un po' di gente e comunque sono belle cose rispetto alla nostra tradizione.